Musica Quinta tappa Shark Bay, Nova Gorizza, assente Torbianelli Che cazzo è Torbianelli? L'ultima tappa di stagione dello Shark Bay vive come al solito un momento di grande emozione e divertimento, sia ai tavoli sia fuori Ma questa è la prima che lo Shark Evans affronta senza una figura che in quest'annata 2012 è stata a presenza fissa al tavolo e nel lavoro dei staff Che cazzo è? I giocatori infatti hanno subito notato questa assenza e Marco Torbianelli è nel cuore e nelle parole di tutti i presenti Cosa ne pensi di Marco Torbianelli? Di chi? Perfetto Non lo conosco Il migliore Non lo conosco Cazzo è Marco Torbianelli Marco Torbianelli sapevo che era dell'altra sponda Tutto quello che entra deve uscire Aspetta che sta passando tutto il resto Di lui rimarranno per sempre la sua totale conoscenza del field in gioco Abbiamo ancora dei grandi nomi in gioco La capacità di dare a tutti indicazioni utili per migliorare il proprio lavoro E nei momenti difficili sapeva rallegrare tutti con le sue qualità canore Ma forse quello che nessuno sa è che fin da piccolo una sola cosa non era mai riuscito a fare Allacciarsi le scarpe da solo A sei anni ancora ci volevano parecchie ore prima che riuscisse nell'impresa Beh 25 minuti e mezz'ora al massimo dai Vabbè dopo tante e tante prove ecco che finalmente Ma quanti anni avevi Marco la prima volta che ci sei riuscito? Io non mi ricordo se avevo 23 anni Ecco finalmente da quel momento la sua vita cambiò in meglio Ora tutte le mattine riesce con il sorriso ad allacciarsi le sue belle scarpine da solo E la stima per se stesso è di nuovo migliorata Queste scarpe sono l'unica cosa che mi ha Gentissima E se voglia è bellissima Ma veramente? Ridicola sta cosa Certo ogni tanto ricade ancora in piccoli momenti di depressione, alcolismo e reazioni scomposte Soprattutto nella postura fisica Ma i suoi amici più cari gli sono sempre vicino Anche oggi che non ci farà più compagnia Ricordando le sue caratteristiche più importanti Il suo spessore umano, la sua altezza E' l'unico che ha una figlia neonata più alta di lui E noi vogliamo ricordarlo così Nel suo letto durante le meritate ore di sonno Mostrare il suo lato migliore, quello che non vedremo più Arrivederci Torbenelli Una parte di te, quella coperta dal bolino rosso, sarà sempre con noi Tu sai chi è Marco Torbianelli? Come no, Marco Torbianelli è il... Credo che questo documentario... Siamo un momento in cui la decisione dei tassi deve fermare Che cazzo è Torbianelli?